Se lui è ancora in condizione di capire e di poter pensare a se stesso da solo, non ho nulla da chiedere. Ma se, come penso io, c'è qualcosa che non va, perché comincia a perdere colpi da un punto di vista neurologico, da un punto di vista fisico, perché è rallentato, quello che occorre non lo posso stabilire io, perché io non sono lo Stato o non sono la persona adatta a stabilire. Ma quello che chiedo è la dignità, come la possiamo esplicare? Noi siamo consapevoli che sarà difficile che mio padre possa essere scarcerato. Noi quello che stiamo chiedendo e che continuiamo a chiedere è che mio padre venga curato. Quali sono, nero su bianco, le patologie di suo padre che portano lei oggi qui a decidere di esporsi per la prima volta per denunciare questa cosa? Un decadimento neurologico, tale da non poter permettere la somministrazione di una chemioterapia per la sopravvenuta recrudescenza della tumore alla prostata. Il conto alla rovescia è cominciato. Se mio padre, pagando quello che è meritato, immeritato, giusto, sbagliato, non tocca a me perché, ripeto, ho sempre detto solo di parte, io sono il figlio, ma oggettivamente sta scontando una pena. Se diventa incapace di poter scontare la pena, perché per tante altre persone è possibile che ciò avvenga, perché ci deve essere la discriminante provenzano? Semplicemente perché lui si chiama provenzano. Un detenuto eccellente. È un... prima di tutto è un detenuto. Gli sono venuti meno alcuni diritti, ma rimane sempre cittadino italiano. Poi sarà stato, cosa, membro di Cosa Nostra, sarà stato... Capo. D'accordo, ma stiamo parlando sempre di un essere umano. D'accordo, devi farti carcere, devi spiare la tua condanna. La dignità umana la possiamo rispettare o no? La mia domanda è questa. Io mi rendo conto che per molta gente si alza, potrebbe pure alzarsi in questo preciso momento e dire sì, ma per quello che lui ha fatto merita questo ed altro. Me ne rendo perfettamente conto. A tutti questi dico, bene, se mio padre è quello che è e ci sono delle verità processuali che lo affermano e ora è arrestato, c'è un posto vacante. Chi si sente di far parte di uno Stato che non applica i diritti, può prendere posto su quella poltrona. Quella che ha lasciato suo padre. Certo.